professore che ne pensa di chi abbandona apparecchi elettrici ed elettronici guasti e pile scariche nell'ambiente beh in realtà si tratta di una pratica assolutamente salutare in quanto i rai e le pile scariche contribuiscono alla diversità dei nostri ecosistemi e i materiali di cui sono composti provengono dalla terra ed è quindi giusto che ritornino sulla terra ma sentito che roba ma queste sono fake news i rai e le pile scariche sono rifiuti nocivi per l'ambiente vanno raccolti correttamente ma infatti io non mi fido del sentito dire io mi fido soltanto di raccoltarai.it e raccogliamo più pile.it rai e pile scariche vanno portati ai centri raccolta più vicini o nei punti vendita abilitati o ai punti di raccolta dedicati la raccolta palla semplice è chiaro bene lei pensa no io non penso immaginavo ecologiche geniale ma che geni molto bello